Piacere, Paolo Gabbianello. Ho studiato a Milano ma vengo da Firenze. Dove vivo? Vivo a Breslavia, o Wrocław, come si dice in polacco. La mia storia non è che una normalissima storia di un normalissimo italiano a Wrocław, come ce ne sono tanti. L'11 luglio 2013, alle 11.20, atterrai per la prima volta a Wrocław. Ma per quanto ci siano stati tanti italiani e tante storie a Wrocław, beh, la mia fu veramente molto diversa. Perché ho sempre saputo dire la cosa sbagliata al momento sbagliato e così ho finito per far arrabbiare la persona giusta al momento giusto. E così, nonostante tutti i guai che mi sono piovuti addosso, la mia stupida storia non la cambierei con nessun'altra al mondo. Perché quello che Wrocław ha dato a me non l'ha dato mai a nessuno. Come ho vissuto questa città io, non è mai stato ne potrà essere vissuto da nessuno. Ma diamo per ordine, chiaramente.